Sono tre punti d'oro quelli conquistati oggi da Rimini in maniera quasi insperata perché ormai sembrava scritto lo 0-0. Sì, per come è andata la partita sì, insperata. Io ci ho sperato fino alla fine perché secondo il mio punto di vista la squadra ha fatto un'ottima partita. Ha fatto 95 minuti di buon calcio. È normale che ci sia stato un calo nel secondo tempo anche in virtù del campo molto allentato. Sono i primi freddi, i primi campi allentati. Naturalmente ci possono essere dei cali ma penso che la squadra abbia meritato ampiamente la vittoria. È arrivata al novantesimo come può arrivare al primo minuto. Sarebbe stato un peccato essere qua ancora a piangerci addosso e aver buttato via due punti. Penso che siano meritati. Sono arrivati così. Abbiamo sbagliato anche un calcio di rigore. Abbiamo creato nel primo tempo tante occasioni. Sono contento. Ecco, proprio il calcio di rigore avrebbe potuto fare da Spartiaco in questo match e invece Rimi ha dovuto soffrire fino al recupero. Fa parte del gioco, no? Ci sono degli episodi dove ti possono esaltare, episodi dove ti possono leggermente deprimere. Come forse è successo anche a Fal, che ci teneva tanto a questa partita. Sicuramente ci teneva a segnare il calcio di rigore. Ci teneva a dare continuità nei gol segnati. Due domeniche ha avuto la possibilità oggi di realizzare il calcio di rigore. È fuori dubbio che forse ha accusato un pochino il colpo, anche se ha giocato discretamente. Sappiamo che può fare sicuramente di più e quindi lo aspettiamo. Non c'è problema. Oggi è andata bene perché doveva andare così, visto quello che abbiamo fatto in campo. Come dicevo prima, sarebbe stato un peccato buttar via ancora due punti. Possiamo dire che la zona Cesarini, che ha tolto due punti al Rimini, questa volta è riuscita a riconsegnargli, di quelli di Monza? No, non penso. Penso che due punti a Monza siano stati scippati. Sappiamo tutti, ormai sono passati sette giorni. Dimentichiamolo. Oggi è il novantesimo. La partita finisce al novantacinquesimo. Come è successo a Monza, d'altronde, al novantacinquesimo abbiamo preso il calcio di rigore. Tutti si ricordano del 2-2. Oggi ci ricordiamo del 1-0, ma penso che sia sicuramente meritato. Sul piano del gioco continua la crescita del Rimini? Oppure oggi il terreno di gioco non ha permesso alcune trame che a Monza invece non sono state consentite dal manto erboso? Io penso che il primo tempo sia stato di elevatura, di grossa elevatura. Abbiamo schiacciato il Bellaria nella propria metà campo, abbiamo creato diverse occasioni da gol. Non ultimo il calcio di rigore, che poteva essere sicuramente una partita diversa. Sta crescendo ancora il Rimini. Si diceva inizialmente che avevamo la difesa un pochino ballerina. Fa parte del gioco perché all'inizio tu prepari un certo tipo di modulo, cerchi innanzitutto di proporre il gioco così. È normale che la difesa si deve adeguare a tutti i reparti. È normale che il centro campo in questo momento fa molto più filtro. Gli attaccanti fanno un lavoro di copertura molto bello. La squadra sta crescendo, abbiamo riscatto pochissimo. A parte il primo tempo, nella stessa circostanza, ci sono due parate di scotti. Mi ripeto, sarebbe stato un peccato buttare via due punti ancora. Siamo con il tecnico del Bellaria, Alfonso Pepa. Allora gli chiediamo un commento a questo derby, perso 1-0, quando ormai il Bellaria sembrava avercela fatta, insomma, a chiudere senza subire gol. Sì, c'è rammarico. Abbiamo subito questo gol 95esimo che si poteva evitare. C'è un po' di rammarico. Il derby, purtroppo, anche se abbiamo nascosto un po', di non sentirlo, alla fine poi in campo questa cosa si sentiva. 95esimo, abbiamo preso gol, penso che un pareggio era un risultato giusto. Visto che il secondo tempo abbiamo costruito un po' tutti gli spazi, alla fine penso che il risultato del pareggio era un risultato giusto. Di che è stata la deviazione per l'autogol? Siete riusciti a vederla? All'ultima diagonale penso che era di Rezamendia, l'altro centrocampista che doveva chiudere quella traiettoria. Poi di bravura ce n'è poca, lì c'è un po' di fortuna, quindi alla fine ha tirato, è stato fortunato. C'è anche questo nel calcio. Il rammarico per il Bellare è che nonostante il rigore del primo tempo parato da Caroppo, alla fine non c'erano state delle grandissime opportunità per il Rimini che forse ha costruito un po' di più, però nel complesso ci poteva stare anche questo pareggio. Sì, un rigore sicuramente netto, è stato molto bravo Caroppo, poi dopo abbiamo avuto due palle goal con Karamateng, è stato molto bravo di portare l'oro. Classico derby dove la tattica si è alzata di valore e quindi a pochi ti rimportano l'oro. Penso che il risultato del pareggio, come ho detto prima, è un risultato giusto. Alla fine loro sono stati premiati dalla fortuna. Un tiro dal limite, deviato e Caroppo non ha potuto fare niente. Si interrompe quindi la striscia positiva del Bellare dopo le due vittorie interne? Sì, abbiamo avuto un buon momento dove abbiamo sfruttato due vittori in casa, abbiamo messo punti importanti, dobbiamo guardare già avanti. Già da domani pensiamo a Monza, una grossa squadra anche perché ho visto un po' i risultati, è difficile trovare una squadra un po' come l'anno scorso il Milazzo e il Casale. Quindi sono tutte squadre a terzate per fare bene, scavalcare i primi sei e poi andare nei play-off addirittura per rimanere nella Lega però unica. Un bell'area che comunque sul piano del gioco non ha demeritato neanche quest'oggi? È stata un buon bell'area, anche se la vogliamo dire tutta a sprazzi, sinceramente qualche situazione non mi è piaciuta, martedì la rivedremo, cerchiamo di lavorare. Oltre all'aspetto tattico anche mentale, mentalmente il primo tempo non mi è piaciuto, dobbiamo fare di più, soprattutto un po' chi è da chiocciola, deve correre di più, si deve sacrificare e deve aiutare i giovani. Questo è il giocatore che noi cerchiamo a bell'area, quindi non è stato un grande primo tempo. Il secondo tempo è un po' meglio, tatticamente siamo stati disciplinati, non abbiamo creato tanto ma non abbiamo neanche subito, quindi abbiamo portato questa partita fino alla fine e poi sono stati fortunati. Non so se interpreto male, si riferiva a Cesca quest'oggi? Io mi riferisco a Capoclosto, Jefferson, Cesca e Perini, quindi loro sono da chiocciola, si deve correre di più, devono essere giocatori da bell'area, giocatori da bell'area sono quelli che devono dare qualcosa in più, anche fuori dal campo, glielo ho chiesto, lo stanno facendo, ci dobbiamo migliorare, stiamo alla sesta giornata, stiamo da due mesi assieme, quindi i giocatori da bell'area sono questi, anche perché il 90% è una rosa di giovani, tutti inesperti, sappiamo che dobbiamo lavorare tanti, quindi ci sta.